musica Detallati nel canale del Burnia sono nella mappa di Dromu per fare di nuovo l'ent Vi ricordate era quel mostruo tipo albero, insomma è un albero Perché dobbiamo craftare una parte di un oggetto Aspettate che guardo anche che armi ho Non mi pare che siano quelle giuste però infatti devo mettermi il laser Allora questo, ok E di arma da fuoco va bene qui dalla pistola Lo facciamo, il vacuo strangolatore vedete Perché se gli distruggete le gambe prima di sconfiggerlo Invece vi da un'altra cosa con cui potete craftare un'arma da mischia più potente Adesso il video lo blocco qui, è inutile che vi riporto l'ent E ci rivediamo alla fine dello scontro Ok, siamo riusciti a spaccarvi le gambe E vi faccio vedere sotto inventa... Dove c'è? Dove è? Ah no, sotto materiali vedete ci ha dato cuore contorto E adesso andiamo a Varda e col cuore contorto posso aumentarmi il martellone Vedo E siamo presi un po' maluccio però Alla fine ce l'abbiamo fatta Senti, senti che mal si Sono all'uscita io, tuve sei? Dai che metto in video questa cosa del craftare del martellone Il martellone io ce l'ho già, tu ce l'hai Devo comprarlo praticamente Oh si Dai vediamo se è buono, fallo tu, se è buono Ma è lento il martello? No, dipende Io che l'avevo già Adesso prima di craftare quella cosa lì Ti faccio vedere come è il martello Uh, ti faccio vedere il martello Quanta ignoranza Ti metto tra il martello e l'incudine È venuto in cuore Ok andiamo a Vardimelo E poi non so ma come si fa a craftare tra l'altro Ma io credo che se vai da cosa Penso dalla tipa forse te lo fa fare Sì è quella simpatica Sì è quella che gli darei fuoco Non ho tempo per te No, adesso devo salvarti il pianeta Ti metto il tempo per te Ma te metto fuori in mezzo ai Come se c'è mai root? A farti rootare in faccia Ti sei un butto Ti sei un butto qua lì Ti ricordi? Sì Ti sei un butto Eccoci qua Allora praticamente Metto il martello e ti faccio vedere Allora il martello è questo Io ce l'ho 101.4 il martello Guarda questo qua è il martello Ok Molto hai visto Dove cazzo è? Perché era già da dentro Già che si craftava l'arma Allora ho visto Allora dove crede? Ma baffa lì in cuore Ah no te lo compri proprio 650 euro costa Come te lo compri proprio? Il maglio è pietrificato questo Sembra che ho messo tutto il martello per cazzo Non pensavo che questo qua ti modificassi Dai ma ti guardi il pane Te davo col martello te davo Sì bene Ora dai Vediamo Sì Sì è meglio che ne valga la pena Invece li ho i soldi per una volta tanto Danno 75 Forte impatto Non ha male Quella fa solo danno 75 Guarda guarda che gli ho spaccato la sedia Gli spacco tutto Non mi dispiace È un po' più equilibrato di quei rottami Se mi hai visto che se lo fai caricato Lo fai caricato Fa una frase di esplosione per terra L'ho portata a 90 Guarda guai che fa l'esplosione Guarda che fa un'esplosione maglio eccolo qua 90 solisce un cammino a portarlo però posso potenziarmi anche la doppietta e questa qui è del balesso non potenzio questo ok armatura posso potenziare questo manto del cacciatore andare a prendere la typewriter perché mi hai sparato con quella ma la pistola migliore qual è per fare la pistola migliore mi sa che è questa qui la corruttore più 4 però io mi tengo questa e qua io mi tengo il laser con questo e mi tengo il maglio anche se fa solo 90 dobbiamo salvare con una forte impatto ma basta toccare questa pietra rossa puoi salvare una volta che ti ripristina salva anche devo fare viaggio anche giusto no adesso dobbiamo andare al menu principale andare nel tuo nel tuo manto allora aspetta un attimo si fa così torna al menu principale abbiamo anche qualche punto caratteristica ma neanche guardato perché c'è dato anche a parte c'ha dato quello è un'altra cosa a parte il cuore ma il cuore servirà qualcosa quel cuore che abbiamo là eh beh ci abbiamo fatto il maglio era uno degli ingredienti per il maglio ah per fare il maglio ti serviva l'ingrediente quello l'ingrediente segreto con la pasta asciutta che faceva il mio cugino si dica cosa che sto ancora registrando comunque sai che io dopo sono l'ignorante metto tutto vabbè tanto il mio cugino non si guarda appunto vabbè e dov'è che dobbiamo andare adesso praticamente sulla terra cortile occidentale facciamo vedere nel video dove andiamo e dopo riprendo il video quando abbiamo trovato l'oggetto e facciamo vedere dove l'abbiamo trovato perché sennò sei eterno cioè sto gioco ti fa veramente venire l'esaurimento nervoso allora mano sul pappellotto qua e quindi devo andare viaggia che è cortile occidentale tanna dei conigli fine della terra cortile occidentale c'è e allora là dobbiamo andare ah figo però guarda che belle armi che abbiamo adesso siamo belli con lo cantetto con le armi si bisogna si ma per potenziale secondo me bisogna giocare tipo fare gli schemi del cavolo e vai in giro tipo sulla terra vai in giro nel coso là un po' dei mostri nemmati un po' crafti oggetti cioè crafti ferro galvanizzato a manetta poi torni indietro e ti pompi fai un altro pezzettino senza fare i boss o robe strane ti pompi e poi torni a è logico che è meglio non crepare perché ogni volta che torni indietro poi i mostri si rispaulano e non mi pare il caso comunque poi ci manca sempre la parte delle capanne che c'è il tipo là che non so come cazzo si chiama guarda io ti seguo eh non so dove devo andare non si fa andare là posso montare sopra qua? mi fa passare di qua non è che ci sia un passaggio nell'altro spacco a casa sta setta e c'è quel cancello la mano si apre questo qua e niente dai andiamo da un'altra parte non c'è neanche la possibilità di spaccare qualcosa c'è no chiedigli quanto vuoi chiedigli quanto vuoi li chiedo io se tu pure sto facendo il video adesso su questo è da un po' che non assistiamo a un bel combattimento cosa ne dite se questi idiotici offrono uno spettacolino eh ragazzi chi di voi sopravvive? beh quello avrà salva la vita non si può chiedere di meglio vero? inizia il combattimento non deludetemi ma contro chi è quello? contro chi è quello? urlare con i cani di sangue uccidetevi a vicenda uccidere o essere ucciso guarda chi? ah io e te io e te proviamo guarda vero come vado a comparsi tra dei miei altri non è vero non so perché vado a morire lì non dovete far trovare la lancia a fiamme 5 secondi è fallito accedetevi a vicenda ora combatterai con bravos eh vabbè dobbiamo la comparsa tra dei miei altri ecco qua ma no vado a ricaricare proprio adesso vabbè se li ho dislegati il problema è che qui è grossa come la far burda ma io sono in realtà che mi crede ma poi grossa non avessi finito più cazzo non avessi finito non avessi finito la via cupola qua No, 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 no. Ho trovato la posizione Vieni via da di Davide Dove sono io? Vieni via da di Davide un pezzo di merda non fai il giro di nuovo il pezzo di merda vaffanculo mi ha preso però sto facendo il giro non lo vedo più non sei dietro di tal ecco lo cuore non 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 sto facendo il giro probabilmente è qua non 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 pref differente essere onesti ma l'uscita non è l'icodo tra l'altro non sa jam gie che siamo inutili qua po il deposito lo abbiamo fatto ma tu ti hai rimesso quelle robe corrosive Spero che abbiamo trovato l'altra volta, funziona, è vero che l'hai estordita e io dopo l'ho bruciata Sì, ritiravo quelle e lo rincoglioniva Ti stai ancora spaccando tutto Sì, ma non c'è nient'altro da spaccare, a parte i coglioni Era un mini boss alla fine Intanto chiudo il video Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, ciao ciao